Allora, partiamo con delle slide? Sì, sì, così facciamo vedere come si registra perlomeno il programma Erasmus per imprenditori. Adesso vediamo dalla regia appena le mettono in onda. Intanto iniziamo a raccontare un po' come funziona il meccanismo. Ok, il meccanismo è molto semplice. La Commissione Europea ha creato una piattaforma, tutto viene gestito come se fosse una registrazione su Facebook o se uno di questi siti. Quindi, c'è semplicemente qualsiasi persona che abbia voglia di capire questo programma può mettere anche su Google Erasmus per imprenditori o Erasmus for Young Entrepreneurs, come sarebbe il nome legale dell'iniziativa. Si vede qua, là si vede addirittura il link direttamente. Simplicemente dovete cliccare in quel link, non so se possiamo passare all'altra slide. Sì, adesso passiamo anche a quelle successive. Esatto, questo è semplicemente come funziona il programma, il programma è presente in tutti i paesi UE, addirittura anche l'Islanda, Norvegia, Serbia, Bosnia, Israele, anche i paesi candidati, molto interessante. Vuol dire che si può fare business con questi paesi attraverso questo programma. Quindi con l'Israele, per esempio, uno fosse interessato può farlo, perché è tra i paesi menzionati. Sì, addirittura noi siamo, fra il nostro consorzio, abbiamo l'Islandia adesso come partner. Non so se passiamo all'altra slide, se è possibile. Qua vediamo un riassunto di che cosa tratta il programma, dove un nuovo imprenditore appunto si reca all'estero per lavorare con un imprenditore affermato, se fa apprendimento sul posto, scambio di esperienza, accesso a un nuovo mercato, network, comunque le cose che abbiamo un po' parlato, raccontato adesso. Vediamo quella successiva. Successivamente, ok, là questo è quello che volevo farvi vedere, che è certamente la schermata che vi compare quando voi cliccate nel sito dell'Erasmus Region Entrepreneurs. Là c'è un bottone verso la destra del schermo che si dice Apply Now, che vuol dire Applica Registrate. L'applicazione viene fatta interamente in inglese. attenzione però, le imprese venete che vogliono registrarsi e sono imprese esperimentate, cioè che vogliono diventare imprese ospitanti, possono registrarsi in italiano. E dopo noi traduciamo. Noi quel lavoro lo facciamo solo per quelli del territorio che vogliono fermarsi qua. Quelli invece che vogliono partire devono registrarsi in inglese, perché se vuoi internazionalizzare devi fare tutto in inglese. Presupposto bisogna sapere bene l'inglese. Ci sono due condizioni, l'imprenditore che parte, vuol dire il giovane imprenditore, la giovane impresa, deve essere o una persona che ha un'impresa da meno di tre anni, o se è una start-up, un'impresa appena aperta, o una persona addirittura che non ha ancora l'azienda però ha l'intenzione di aprirla. E questi sono i requisiti. Non c'è nessun limite d'età, cioè come dicevo noi abbiamo nuovi imprenditori dei 45, dei 50 anni, solo sono persone che stanno per aprire un'impresa e devono, molto importante, avere un business plan, perché devono dimostrare un minimo di intenzione di avere questa impresa. Non è che la Commissione Europea dà soldi a qualcuno perché mi dice... E questa è una cosa molto importante. Questi sono i requisiti per il nuovo imprenditore, vuol dire quello che parte. E invece per l'imprenditore che ospita, non so la seguente slide, ok, deve essere un imprenditore con più di tre anni di esperienza, perché se no che esperienza va a raccontare, deve essere proprietario dell'azienda, manager, amministratore, essere residente di un Stato europeo. E questo è molto importante. Il programma si rivolge principalmente alle piccole e medie imprese. Ossia non sono emissibili le grandi imprese. Ecco, quindi già questo aiuta moltissimo. Già questo aiuta, perché è un escambio fra piccole e medie imprese. E così, queste sono le condizioni. Alla fine della presentazione ci sono anche i nostri contatti. Quindi vediamo se le possiamo mettere anche a video eventualmente, ma comunque... Sì, perché così le possono vedere tutti, se le possono scrivere, ci possono chiamare. Allora, vediamo l'ultima slide appunto che ci viene di supporto. È questa? Vedi, questi sono i nostri nomi. Estefane De Santi per quanto riguarda l'Enterprise Europe Network. Io, Heilin Gonzalez per quanto riguarda Erasmus per il giovane imprenditore. E la potete vedere il nostro indirizzo, il telefono 041 0999 411 e la nostra e-mail europa-eurosportello-veneto.it. Perfetto, chiarissima. Molto, molto chiara. Torniamo quindi adesso dal sistema particolare di un'esperienza che può essere fatta, che ci ha spiegato benissimo. Andiamo a quelle invece più generali, di opportunità. È quasi un consiglio che viene quello di aprirsi a nuovi mercati? Sì, sì, assolutamente. Perché si fa con un'esperienza, però è importante. Soprattutto in questo periodo dove il nostro mercato purtroppo è fermo, guardare all'estero è sicuramente un'opportunità. L'Erasmus per giovani imprenditori, per giovani imprese, dà uno strumento per poter allacciare delle relazioni, delle cooperazioni. Quello che abbiamo con l'Enterprise Europe Network invece è tutto un contorno di attività, che va da tutta la parte, come dicevamo prima, informativa, la parte di accompagnamento, ma anche tutti quei servizi magari più specialistici come può essere la gestione dell'innovazione, la gestione dei brevetti, la contrattualistica, che sono cose molto particolari calate nel caso specifico dell'impresa. Quindi attraverso l'Enterprise Europe Network riusciamo a dare tutto questo servizio. Poi non per ultimo, in ordine di importanza, ma teniamo presente oltretutto che... Sì, stiamo leggendo le messaggi, spieghiamo pure. Che grazie all'Enterprise Europe Network abbiamo proprio la possibilità di avere un canale diretto con Bruxelles, con l'Europa, con la Commissione Enterprise, che è utilizzata dalla DG Impresa proprio come un attore privilegiato direttamente sul territorio, quindi anche per creare le politiche. Noi siamo chiamati quotidianamente a fornire i nostri contributi attraverso la raccolta dei questionarii presso le nostre imprese, sulla legislazione che si va a formare. Ecco, c'è un messaggio che fa sorridere, però in realtà è chiaro un po' della realtà. Dice, io ho una gelateria a Mogliano, non riesco a vendere, perché la gente non compra più di tanto, saranno le torte gelate, prodotti di gelato, penso che il cono magari può anche essere che sì, dove devo andare all'estero per poter vendere. In realtà da questo si possono aprire diverse cose, secondo me. Da un lato capire, è un prodotto che va, quindi è un prodotto che è gradito dal territorio, quindi offre una qualità sufficiente, perché anche questo è un altro aspetto. Il prezzo è equilibrato, prodotto, qualità, prezzo. L'andare all'estero però effettivamente... Potrebbe fare delle idee, potrebbe avere... Può aprire nuovi approcci, anche magari fare lo stesso business, però con modalità diverse, magari capire quali sono, non so, la tendenza del momento, qual è il modo migliore per affrontare le problematiche che ci ritroviamo ormai oggigiorno. Assolutamente. Può essere un'apertura di orizzonte, diciamo così. Assolutamente. Ma poi, come diceva, può darsi che un'azienda, che è la cosa forse anche più semplice che uno pensa, non può essere che una gelateria non vada. Però può essere che facendo una valutazione attenta, quando si viene presentata l'azienda, si scopra che in quel contesto territoriale ben preciso, c'è una concorrenza tale, o il prodotto offerto, non è un prodotto gradito a quel tipo di clientela, tale per cui magari bisogna cambiare, esatto, perché non è detto che assolutamente... C'è tutta una catena di gelaterie che, affiancata ad altre, hanno avuto un business pazzesco perché hanno offerto una qualità notevole e tra l'altro a prezzi più alti, però la gente si vede che la qualità la apprezza, quali prodotti vengono impiegati, come vengono preparati, insomma, ci sono tante piccole cose. Dietro a tutte le cose che vediamo, anche che ci sembrano molto spontanee, c'è tutto un piano di marketing, c'è tutto un piano intellettuale, non so, vediamo, tanti parlavi adesso della gelateria, stiamo vedendo l'incremento di gelati costosissima, che le persone fanno addirittura la coda, mio marito dice che il gelataio ti vende i prodotti molto lentamente per fare la coda apposta, perché così le persone comprano più gelati, e vedi a fianco di gelati buoni lo stesso, però che nessuno li compra. E là non ci sono, ci sono altre leggi del marketing, che per quello forse a queste persone le converrebbe, le converrebbe, fra virgolette, hai che mettersi anche nei panni degli imprenditori, che cosa vuole dire, per noi qua forse è molto facile consigliare una persona, perché non siamo dentro se noi gestiamo progetti europei, però parliamo un po' della nostra piccola esperienza, di avere tante piccole esperienze da raccontare, nel senso che ogni tanto dare un passo indietro, o cambiare prospettiva, può aiutare a qualcuno, a trovare un nuovo modo di farla, di produrla, di vendere. Sì, mancano pochi minuti anche la chiusura. Progetti europei, quindi finanziamenti concreti, ce ne sono, ce ne sono, sono accessibili, c'è la possibilità? Ci sono diversi strumenti, sia da quelli che troviamo direttamente nel nostro territorio, attraverso i fondi strutturali, che sono uno strumento essenziale per la piccola e media impresa, sono fondi europei anche quelli, che vengono però gestiti a livello territoriale. Abbiamo fondi diretti che vengono gestiti direttamente da Bruxelles, e in questo periodo in particolare, con l'apertura della nuova programmazione, si parla molto di Horizon 2020, che è il programma per la ricerca. È un programma molto complesso, effettivamente, perché... Però voi potete dare una mano. Però noi diamo una mano, abbiamo lo sportello Apre all'interno del nostro ufficio, che è lo sportello che proprio fornisce supporto per partecipare ai programmi di ricerca. Quindi assolutamente possiamo fornire tutte le informazioni del caso. Io devo chiudere. Vi ringrazio perché il tempo vola, letteralmente ci sarebbe. Comunque vi abbiamo dato degli stimoli, degli input. Sappieteli cogliere, che non necessariamente bisogna prendere i miei bagagli e trasferirsi da un'altra parte, perché si possono trovare delle modalità per migliorare le offerte o se non altro cogliere delle altre occasioni che vengono da altri paesi per poterle ampliare. Se proprio non si riesce, si fa la valigia e si trasferisce in altri paesi per trovare delle occasioni per poter crescere, se non altro. Poi con l'esperienza che si matura da altre parti, si può anche tornare a condizioni migliorate anche nella nostra realtà. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, ringrazio anche le nostre ospiti. Noi naturalmente ci ritroviamo domani. Grazie. Grazie a tutti.